Sono stati pedinati, intercettati per parecchio tempo, la scorsa notte sono stati arrestati reclusi in carcere, operazione antidroga, Gera con quattro arresti, le manette sono scattate ai porsi di Emanuele Brancato, 33 anni, ritenuto il capo dell'organizzazione, Giovanni Simone Alario, 29, Diego e Giovanni Nastasi, di 50 e 25 anni, tutti gelesi. Ci sono anche sei indagati. I provvedimenti restrittivi sono stati firmati dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gera, Palofiore, su richiesta dei sostituti procuratori Antonio D'Antona, da poco trasferito a Trapani, e Eugenia Belmonte della locale procura, alla cui guida è stato nominato il procuratore Fernando Asaro, attualmente coordinata da Lara Secchacini. Le ordinanze di custodia cautelare sono state eseguite dagli agenti di polizia del locale commissariato, ai ordini del dirigente Francesco Marino, e da quelli del commissariato di Niscemi, guidato da Andrea Monaco. Gli stessi investigatori, durante il blitz denominato Samarcanda, hanno sequestrato diversi beni nella disponibilità di Emanuele Brancato, volto sconosciuto nel panorama giudiziario e soprannominato Jimmy per la sua prestanza fisica. Brancato utilizzava schede telefoniche sospette intestate ad uno degli indagati. In merito al sequestro sono finiti sotto chiave beni mobili, tra i quali auto, polizze assicurative e conti correnti. È la prima volta a Gela che viene disposto il sequestro preventivo dei beni nei confronti di un indagato per stupefacenti. Secondo quanto ricostruito dall'inchiesta, la droga, soprattutto cocaina, veniva acquistata in Calabria e poi rivenduta nelle piazze di Gela. In gente, il giro d'affari scoperto. Abbiamo cercato, ed è questo lo sforzo che stiamo ultimamente compiendo, di stroncare proprio alla base il fenomeno dell'autofinanziamento. Purtroppo c'è la percezione, da ultimo anche in questa città, che il fenomeno dello spaccio di stupefacenti possa essere anche quasi un fenomeno sociale, di lecito, o meglio, di lecito chiaramente, ma come alle fonte proprio economica di finanziamento. Quindi cerchiamo anche con le misure reali di stroncare alla base questo autofinanziamento dell'attività criminale, perché al di là della pericolosità in sé dell'attività di spaccio, c'è anche questo ulteriore profilo, ulteriormente appunto, che crea allarme sociale, proprio perché si, in questo modo, finanziano altre attività illecite. Ci sono dei soggetti che hanno favorito, agevolato, questa attività criminosa con le proprie competenze tecniche e che servivano a portarvi lontano dal nome reale di un soggetto incensurato. Sì, direi che proprio questo evidenzia proprio la capacità criminale di questi soggetti. Non hanno avuto alcuna remora nella ricerca sia delle microspie che erano state appunto piazzate all'interno delle abitazioni e delle autovetture, in una ricerca proprio quasi spasmodica delle stesse, sono riusciti anche a disattivarle, in questo modo anche a impedire un utile svolgimento delle attività di intercettazione. Ma ciò che preme ulteriormente evidenziare è anche il fatto che erano gli stessi indagati dotati di un particolare macchinario che a sua volta serviva a disturbare le attività di intercettazione, tant'è che è stato contestato anche l'articolo 671 bis del codice penale.